Io sinceramente già dal trentesimo del primo tempo stavo pensando e nel secondo tempo li avrei fatti giocare tutte e tre insieme, se non si sbloccava la situazione, quindi è chiaro che ci sarà un'alternanza fra loro due, il fatto che stanno tutte e tre bene ci può dare anche il turno di riposo a Ronaldo che ne ha bisogno o ne avrà bisogno in futuro perché è chiaramente impegnato anche lui nazionale e tutto il resto. E' un ragazzo che gioca tutti gli anni un numero forse eccessivo di partite, quindi ci dà tantissime soluzioni, l'importante è che continuino a stare bene tutte e tre contemporaneamente.